Buon, partiamo da questa bellissima notizia, il rinnovo del contratto fino al 2020, sintomo che la società crede in te, grande soddisfazione. Sì, sono contento di aver rinnovato altri due anni, perché avere altri due anni di contratto mi permette di giocare un po' più libero in campo e poi ti senti più forte, quindi sono contentissimo e sono molto fiero di questa scelta e orgoglioso soprattutto, quindi spero di dare il massimo di quello che ho, farò molto di più di quello che ho fatto perché voglio far vedere alla società che hanno fatto la scelta giusta. Hai avuto pazienza tu perché l'anno scorso complice anche l'esplosione di Mengoni, hai fatto fatica a trovare spazio, poi invece nel giorno di ritorno sei diventato titolare e oramai sei un perno della difesa bianconera. Sì, è vero che all'inizio dell'anno scorso non ho trovato tantissimo spazio per giocare, poi ho saputo essere paziente e poi al giorno di ritorno ho giocato un po' di più. Poi è vero che quest'anno sto facendo tutte le partite da titolare, quindi una grande soddisfazione per me perché non ho mai smesso di lavorare e quindi questa è la chiave per avere continuità e dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo per fare un gran girone di ritorno. Giovanni Andrata si è chiuso bene con l'importantissima vittoria di Brescia, cos'è cambiato con l'arrivo di Mr. Cosmi, quattro risultati utili consecutivi? Sì, abbiamo vinto l'ultima partita, è vero che usciamo da quattro risultati utili consecutivi, però siamo sempre dove eravamo prima, quindi non è cambiato nulla. Siamo sulla strada giusta per poter uscirne, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo perché stiamo lavorando tanto, corriamo molto e si è fatto risentire le ultime quattro partite che stavamo abbastanza bene fisicamente, quindi speriamo che, io spero che la squadra continui così perché siamo in crescita e poi i risultati arriveranno da sé. È ripresa la preparazione domenica scorsa, come hai trovato il gruppo e soprattutto come hai visto i due nuovi innesti, Gans e Martigno? Sì, sono due ragazzi bravissimi, si vede già quando li vedi, è scritto proprio sulla fase che sono bravi e spero che ci daranno una mano per questo obiettivo che abbiamo e per ora Gans ancora non si è allenato con noi per un problemino, però già da domani o dopo domani sarà con il gruppo, quindi è meglio per noi, Martigno si è allenato con noi, sta bene fisicamente, quindi ci darà una grande mano secondo me. È aumentata la concorrenza in difesa dopo la strepitosa prestazione di Ade a Brescia? Sì, sì, ma lui lo possiamo mettere anche prima punta, farà il suo, quindi è meglio per noi, meglio così ci fa tenere un po' la scena un po' più alta, un po' di concentrazione in più, quindi è buono per noi, per la difesa, per lui sono contento e per tutto il gruppo. State già pensando al Cittadella, un impegno che non sarà facile, al Del Duca sì, ma il Cittadella è la squadra che dopo il Palermo ha ottenuto più punti in trasferta nel girone d'andata. Sì, già lo sappiamo come giocare il Cittadella, l'abbiamo un po' guardato, quindi l'abbiamo studiato e visto la partita che abbiamo fatto all'andata ci vogliamo scattare e vincere questa partita perché vogliamo iniziare bene questo giro di ritorno. Sei fiducioso appunto per il ritorno, è vero che adesso si è ricreato entusiasmo, la società sta facendo un grande sforzo per completare la rosa in questo mercato invernale, però ovviamente serviranno almeno 28-29 punti per tirarsi fuori dalla zona salvezza. Sì, noi siamo fiduciosi, ma non abbiamo mai smesso di credere in questa salvezza, anche quando eravamo a 5-6 risultati negativi, quindi questa secondo me è la nostra forza e questa è la cosa che ci tirerà fuori da questo momento buio che abbiamo avuto e io credo nella squadra, nei miei compagni di squadra, in tutto il gruppo, in tutta la società perché l'ho vissuto l'anno scorso e lo faremo di nuovo quest'anno. Grazie a tutti! Grazie a tutti.